Con noi c'è un duo acustico live che cantano, abbiamo sentito Bob Dylan, abbiamo sentito gli extreme ora ora, quindi un bel repettorio. Con noi c'è Alice e Giulio. Dici qualcosa Alice. Allora, innanzitutto una bella occasione questa per esprimere la nostra arte musicale che viene dalla passione per gli anni 70 alla beat generation fino a magari i brani più famosi dei giorni d'oggi e ci siamo così trovati in questa passione comune e abbiamo creato questo Alice in Wonder Sound. Che è il vostro nome. Esatto, è il nostro nome e portiamo avanti questo duo acustico insomma con grande passione. Mi dicevi Alice che comunque è tanto che suonate. Sì, 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 abbiamo una storia personale molto molto lunga diciamo nell'ambito della musica e questa diciamo unione. Delle esperienze molto lunghe in ambito musicale e ci siamo trovati casualmente. Unite le vostre esperienze per poi andare. Esatto. Bene, siete bravissimi, complimenti e buon lavoro. Grazie. Grazie. Calcinelli siamo di fronte al bar Rossini e con noi c'è Ivan Paci che fai parte di Marshall Chef Calcinelli. Cos'è un'associazione che cucina qui? Sì, è un'associazione, siamo degli appassionati di cucina. Quando un locale vuole fare un evento eccetera ci chiama, noi siamo contenti. Parte del ricavato di solito sempre va in beneficenza. Abbiamo una bambina in adozione, aiutiamo la carità di Calcinelli, la carità sparocchiale e comunque lo facciamo per divertirci e per far divertire il sabato e la domenica. Abbiamo ognuno il nostro lavoro, ognuno la sua famiglia però nei weekend ci divertiamo un po' in questa maniera. Unite l'utile al dilettevole. Qui cosa state preparando degli stuzzichini per chi viene? Oggi per Pasqua abbiamo fatto la pizza di Pasqua con degli affettati, pane e formaggio, una cosa. Diciamo che oggi siamo stati, abbiamo cucinato poco ecco, non è di solito ci divertiamo di più a cucinare. Oggi abbiamo fatto solo dei taglieri al bar Rossini per così, per Pasqua ecco. Senti Ivan, una piccola ricetta, piccola piccola per noi ascoltatori. Ma io sono, il mio cavallo di battaglia è la cacciagione. Vi potrei consigliare le palumbe al pomodoro, ripiene, si fa un ripieno con la carne, il pane grattugiato, il formaggio, un po' di prezzemolina e un po' d'aglio, si riempie la palumbe e si fa bollire con un soffritto di aglio, si fa soffriggere la salsiccia, si butta il pomodoro e le palumbe, si lasciano lì per due orette eccetera, squisite, direi eccezionali. Ci credo, ci credo, ci hai fatto venire fame, quindi buon MasterChef a tutti. Grazie a voi, grazie. Voi non volete confondere. Siamo davanti al bar Kikodoro. Siamo davanti al bar Kikodoro.